benvenuti amici sul mio canale un po di tempo che non ci sentiamo più sono stata parecchio impegnata per i pezzi e della peggita ma eccomi qua sono ritornata quindi voglio farvi vedere speciale anniversario euro spin dal 23 maggio al 5 giugno 2022 grandi risparmi è vero sono passata e mi sono fatta un bel po di spesa a cominciare da questi coni gelati a 3 euro e 49 sono 12 coni gelato poi c'è ancora 7 euro e 39 tonno all'olio di oliva quante vaschette ci sono 12 vaschette per 80 grammi il latte a 3 euro e 75 5 pacchi più uno e ci sono altre cose molto molto interessanti dal bicioc con mandorle prosciutto cotto d'alta qualità un euro 39 bresaola 255 pancetta affumicata due vaschettine così 2 per 250 grammi 2 69 c'è il formaggio spalmabile a 0 99 c'è ancora il grattugiato 250 grammi a 2 euro e 39 la presa una e 30 80 grammi e 255 80 grammi e tante tante altre cose lo yogurt greco la pasta sfoglia un euro e 39 mini snack ci sono tantissime cose come vedete le uova fresche fagioli patatine caffè capsule a 4 49 della years ancora caramelle caffè come vedete biscotti la l'aranciata la limonata quanto viene 0 79 non è non è tanto la coca cola a 0 65 di lattine detersivo classico per lavatrice 4 49 ce n'è ce n'è ce n'è ce n'è ce n'è vediamo se riesco a vederlo 0 90 al litro costa 5 litri 5 litri l'amorbidente la candeggina delicata e candeggina non è amorbidente 2 e 99 però sono sempre 4 litri e grande l'asciuga tutto comunque sono pacchi molto grandi confezione grande il prezzo sono buoni i freschi lo spec dal dal tuo adige e 159 come vedete ci sono tante 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 cosine che ne vale la pena di andare a fare un giro 0 49 lo yogurt la passata 0 65 la salsa di soia per chi la usa a me non piace tanto la salsa di soia è in offerta 1 69 0 e 35 i ceci la carne in gelatina insomma ce n'è un po per tutti i gusti cosa c'è d'altro ecco le bibite le varie bibite che al limone che alla pesca aranciata ancora frizzantino lambrusco 189 montepulciano gli ho presi sono buoni tutti e due la birra 0 e 65 e ancora ancora detersivo per capi colorati a 1 59 sono è un litro e mezzo la candeggina 3 litri e 1 79 come vedete ci sono tante 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 cose poi ci sono tutti surgelati e andando oltre a queste cose ce ne sono ancora delle altre in promozione i gelati la vaschetta gelato che non ho comprato perché mi sono dimenticata e ha cioccolato alla spagnola e al caffè poi torno a prenderla e poi spesa intelligente si è in effetti è vero frutta verdura ho preso le pesche oggi ho preso le albicocche 1 99 le albicocche 1 79 le pesche sono buone melanzane le ho viste erano molto belle ma non le ho prese perché avevo già della verdura poi c'è la carne ecco la carne io all'ero spin mi trovo molto bene carne di ottima qualità e ancora ci sono tavoli del giardino ci sono praticamente tante offerte anche sugli accessori ecco cosa mi serviva che non l'ho visto tubo da irrigazione estensibile questo mi serve proprio devo tornare a prenderlo non l'ho visto non me ne era accorta doveva ancora guardare il deplia so che c'è devo tornare a prenderlo perché mi serve per il mio giardino biciclette le ho viste molto belle molto utile molto belle ciabatte scarpe c'è insomma c'è di tutto anche giochi per bambini ho visto che ci sono molte molti giochi per bambini materassino piscinette sempre per i bambini costumi costumi per i bambini che non sono molto cari 9,99 e di nuovo pentole forno a microonde tostapane se vi serve il tostapane i vari accessori per 2,49 per la cucina piatti e poi ci sono aspettando l'estate c'è la promozione delle vacanze se avete dovete ancora prenotare delle vacanze qui ci sono degli sconti io con l'erospinio non ho mai prenotato una vacanza però si potrebbe si potrebbe si potrebbe farci un pensierino eccola qua l'anguria l'anguria oggi non l'ho presa perché mi scocciava a portare del peso ma la farò andare a prendere da mio figlio o da mio marito ecco qui comunque fatevi un giro all'erospin da venerdì 3 e domenica 5 giugno weekend di follia queste promozioni invece ci sono dal 23 maggio al 5 giugno 2022 fatevi un giro spero di esservi stata utile e di vedervi nei prossimi video vi saluto vi auguro una buona giornata e ciao a tutti a presto ciao